Il senatore molisano di Fratelli d'Italia, Costanzo della Porta, è intervenuto sull'ordinanza pubblicata dal TAR relativa ai ricorsi presentati da Neuromed Gemelli Molise e Villa Maria. Il TAR avrebbe mantenuto la sospensiva per quanto riguarda il 2022 e solo per le prestazioni salvavita, lasciando però per il 2023, anzi motivando per il 2023 con la necessità di addivenire alla contrattualizzazione delle prestazioni, così come prevede la norma nazionale. Quindi su questa vicenda va posta ovviamente una pietra rispettando la norma nazionale. Dal 2023 tutte le prestazioni, anche private, andranno contrattualizzate con la Regione Molise. E con lei che idea si è fatta di questa sorta di braccio di ferro? Ha detto bene lei. È un braccio di ferro che sinceramente non fa bene alla sanità di questa regione, non fa bene alle speranze che nutrono i cittadini molisani rispetto a un problema che va risolto. Il fatto che ci sia un contrasto continuo sulla sanità della nostra regione, ripeto, non porta alcun beneficio alla Regione Molise, ai suoi cittadini. Quindi noi dobbiamo risolvere invece questo contrasto con una normativa, con un'azione che guardi sia al dato normativo che finanziario. Ed è quello che come delegazione parlamentare di Fratelli d'Italia stiamo facendo, diciamo, tutte le settimane con una interlocuzione continua e costante con il Ministro Schillaci. Altro tema sul tappeto che interessa tutto il Paese è quello del rincaro dei prezzi dei carburanti in seguito alla reintroduzione delle accise decise dal Governo. Le accise sono quelle che c'erano una volta e è finito l'effetto di alcuni provvedimenti del Governo precedente e anche nel mese di dicembre del Governo Meloni. In verità oggi il prezzo del carburante è intorno a 1,8 euro. Se ricordiamo bene a maggio e giugno del 2022, nonostante l'effetto dei provvedimenti sulla riduzione, era a 2 euro. Secondo me bene ha fatto il Governo non sprecare risorse in questo momento per ridurre le accise sui carburanti perché questo avrebbe dato la possibilità a tutti i cittadini, anche i più abbienti, di avere diciamo uno sconto sulla benzina e sui carburanti in generale. Invece bene ha fatto il Governo a garantire lo stanziamento di oltre 20 miliardi per il quadrimestre, il primo quadrimestre del 2023, per aiutare le famiglie a contrastare il caro bolletto. I risultati che si vedranno a breve. Le opposizioni ovviamente contestano il provvedimento e accusano la Premier Meloni di non aver mantenuto gli impegni. Io ricordo che nel 2014 il Governo Letta, quindi PD, uno dei tanti governi non eletti dal popolo, aumentò proprio le accise. Ha fatto benissimo il Governo a non incidere, sostanzialmente dare risorse per contrastare il caro benzina quando oggi il caro bolletto è un problema molto più serio che coinvolge una platea infinita di cittadini.